Rivisitazione dello Sciopero è un progetto audiovisivo, un omaggio a Pierpaolo Pasolini. Nasce dalla collaborazione che ho avuto e che ho tuttora con la Fondazione AMOD, che è l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, un archivio ricco di materiale video, sociale, politico, italiano e non solo. Per me è un luogo molto importante dove ho conosciuto registi, dove c'è stato i momenti di incontro, perché è un luogo aperto, nel senso che è un archivio che lascia spazio alla reinterpretazione del materiale. È stato così durante una residenza e nel centenario della nascita di Pasolini mi hanno mostrato questo materiale che era appunto un'ora e mezza circa di girato dello Sciopero dei Neturbini del 1970, girato da Pasolini, e che lui non aveva mai montato. Quindi praticamente inedito. Da qui l'idea di creare qualcosa di nuovo, quindi di rimontare questo materiale con tutte le difficoltà e le preoccupazioni ovviamente di maneggiare materiale così importante e prezioso. E ho deciso di coinvolgere Cosimo Terlizzi, che è un videoartista, un artista direi a tutto tondo, regista, col quale ho già collaborato e che ha già fatto dei lavori, delle performance su Pasolini, quindi comunque è una persona molto appassionata della sua storia, del suo percorso, di quello che è stato sia la parte diciamo più cinematografica e non solo. Da lì l'idea di utilizzare la voce di Pasolini e il discorso di Moravia per far parlare questi operai, perché il materiale, non l'ho detto prima, ma è un materiale che è stato ritrovato totalmente muto, quindi senza audio. Quindi partendo dall'idea di dover ricostruire tutto l'audio, abbiamo deciso di utilizzare appunto il discorso di Moravia del suo funerale, quindi omaggiare il centenario della nascita di Pasolini, partendo dalla morte, dal concetto di morte, dalla sua fine, e una sua intervista. Quindi si vedono questi operai che vengono doppiati dalla voce di Pasolini in modo anche un po' distopico, se vogliamo, a volte strano, comunque perché si vede che non è la voce attaccata precisamente, non è doppiato precisamente, ma appunto l'idea è creare questo straniamento. Quindi la classe operaia che Pasolini in qualche modo voleva assolutamente rappresentare, che parla attraverso lui. Poi, conclusa questa parte, diciamo che è la parte più importante, l'impianto concettuale, abbiamo lavorato sull'idea di proporlo live, perché c'era questo progetto con il PAC, il Padrino di Arte Contemporanea di Milano, e le Cannibal, che sono un collettivo di Milano, che hanno prodotto insieme a Fondazione Ammo del progetto, quindi l'idea di trasformarlo in un live, un cineconcerto di quest'opera. Quindi quest'opera diventa materiale audiovisivo per un live, e anche allo stesso tempo, diciamo, materiale da poter proiettare e visionare anche al di fuori di un live. Per me la relazione fra suono e immagine è alla base di tutto il mio processo creativo. Negli ultimi anni ho proprio capito che io creo musica anche quando non è creata allo scopo di sottolineare delle immagini, partendo da delle immagini. Quindi utilizzo sempre come punto di partenza un video, una fotografia, qualsiasi cosa che mi possa suggestionare, quindi dal visivo passo al sonoro. Ho fatto diversi lavori con cinema muto, quindi ricostruire suono diegetico, e poi colonna sonora, spesso, la maggior parte delle volte, legato poi a un discorso di cineconcerto, quindi a una fruizione live. Ho fatto L'uomo meccanico, ho fatto Metropolis, ho fatto anche Cenere, insieme a Cosimo Terlizzi, e a Fiorenza Menni, che è l'unico film dove compare Eleonora Duse. Quindi per me è un rapporto fondamentale. Nel caso di Pozzolini era ancora più complesso, perché partivo da materiale che in realtà non aveva il suono, ma era nato sonoro, quindi c'era vari livelli e vari chiavi di lettura. Da un lato c'è sempre grandissima libertà quando non c'è suono, perché uno può creare tutto quanto, ma dal lato anche una responsabilità, perché il suono, come sappiamo, nel cinema, in tutti i video, in qualche modo ci fa vedere delle cose, quindi decide cosa farti vedere di quelle immagini, su cosa soffermarti, su che emozioni vuoi dare, su che significati paralleli, quindi che storia vuoi raccontare, se vuoi semplicemente sottolineare quello che c'è già nelle immagini o se vuoi creare una dramaturgia parallela che in qualche modo accompagni o crei un altro significato. Quindi per me è un rapporto, devo dire, fondamentale. Insomma, la mia carriera artistica, tutto quanto si basa praticamente su questo. Per me è un rapporto, Grazie a tutti